Allora, volete darcelo una mano? Sì? Benissimo, siamo pronti per la sottoscrizione delle liste del patto per l'autonomia. Abbiamo presposto tutto al modulistico e adesso abbiamo bisogno del vostro aiuto. Oggi iniziamo a casarsi della delizia, poi domani saremo a Pordenone, a San Vito Togliamento venerdì e in tutte le altre località del Friuli Venezia Giulia, candidati del patto per l'autonomia stanno facendo sottoscrivere le nostre liste. È una grande occasione per tutti i cittadini di mostrare la vicinanza a questo nuovo partito che vuole rappresentare l'interesse della popolazione del Friuli Venezia Giulia. Dateci una mano, venite ai nostri banchetti, contattateci se siete interessati direttamente a far parte del movimento. Abbiamo bisogno del vostro aiuto, ci contiamo per il Friuli Venezia Giulia. Grazie.